Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Ma che vuole fare De Luca da grande? Il sindaco di Sicilia, questo è il mio obiettivo, sono arrivato secondo il 25 di settembre scorso, diventa sindaco di tutti i comuni e quindi no a Palermo e così conquistandoli e portandoli da questo punto di vista in linea politica magari riuscirò prima o poi a fare il sindaco di Sicilia. Però farà anche il sindaco di qualche città del nord prima o poi e poi unirà il nord al sud. E allora poi il presidente del Consiglio, lo so perché dopo devi... Ci sono già stati i sindaci presidenti del Consiglio come sappiamo. Giovedì 1 giugno, vigilia della festa della...